buongiorno w tv news oggi 30 novembre santa andrea il 30 novembre di ogni anno si chiede l'abolizione mondiale della pena di morte il 30 novembre la giornata internazionale per l'abolizione della pena di morte in ricordo della prima volta in cui uno stato il gran ducato di toscana il 30 novembre 1786 ha deciso di non uccidere né torturare più nessuno in nome della legge della giustizia dal 2012 grazie alla campagna città per la vita che su iniziativa di sant'egidio ha messo in rete oltre 2000 città del pianeta si sono fatti ulteriori passi avanti per fermare la pena capitale